weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONI DAIE oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi tantissime novità nel video di oggi per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite settimana molto importante questa perché vedremo l'introduzione finalmente del junk rift e ci sono dei nuovi elementi e dei file audio che voglio farvi sentire introdotti proprio da pochissime ore nel video di oggi parleremo oltre a queste news anche della nuova copertura dedicata alla pizza o meglio al tomato se volessimo essere in tema di fortnite aggiornata anche questa copertura si tratta solo di vedere quando verrà rilasciata ma c'è anche un'immagine molto curiosa che magari insieme a voi riusciremo a capire e dopo nuovi audio del nuovo consumabile che sembra essere locato semplicemente nell'area dove c'è il campo da calcio non appena ovviamente verrà completamente eliminato dal rift beacon prima però volevo ringraziare prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xiderone grazie di qua ragazzi per supportarmi nello shop ogni giorno mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima e dai ieri c'è stato il funny moment non sono riuscito a farvi la domandina ve la devo ve la devo fare ragazzi non mi intasate di prepotenza con i commenti che lo so che vi farà uscire la rabbia questa domandina qual è stata la tua peggior esperienza con il bruto quindi come ti hanno ammazzato ti hanno fatto perdere una partita ti è capitato qualcosa di strano io ricordo tra le mille volte che mi ha ammazzato il bruto una duo con e festone e lui aveva fatto tipo 18 kg 17 io ne avevo fatte 7 8 rimangono in 4 gli entra uno prepotentissimo col brutto prima fa me e poi fa lui e veramente è stato un peccato perché avremmo potuto fare il record ma quindi ciancio le bande e non mi parte l'effetto e vado alle ciance lo facciamo così lo facciamo andiamo subito subito a parlare ragazzi del primo argomento anzi rimaniamo in tema brutto ragazzi perché vorrei farvi vedere una clip interessantissima di uno youtuber o twitcher adesso non so dove sia lui che è team detainment che è veramente assurda ed è relativa al brutto andiamo un attimo a vederla ragazzi lui in questo momento ve lo faccio sentire in questo momento lui spegne lo schermo dove sta giocando sta giocando in squad e vuole dimostrare che non servono skill ovviamente per il brutto i suoi compagni gli dicono dove deve andare lui non sta guardando mi dicono carica spara terra aim on the floor spara avversando il suo elemento è morto prima lui non sta guardando è pazzesco non è finita non è finita spara ancora è assurdo distrugge gente senza assolutamente sapere dove guardare e se ne è fatto anche un altro nice job nice job ragazzi è ovvio è ovvio è ovvio che il brutto va in qualche modo ancora modificato vorrei però aprire una piccola parentesi non cerchiamo di non lamentarci così tanto di questo brutto perché in fondo qualche settimana fa pensate semplicemente a quante cose ci hanno fatto divertire su fortnite con le sfide 14 giorni d'estate e tutti i premi che ci hanno regalato quindi ragazzi dai un po' l'anima in pace ancora qualche giorno ancora un po' che finisce la season e poi il brutto probabilmente non lo rivedremo più e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo del nuovo junk rift l'oggetto che sta per arrivare in game tra l'altro vi avevo già fatto vedere alcune immagini interessantissime adesso vi faccio vedere anche la schermata di caricamento relativa al junk rift quindi quella dove sappiamo che farà cadere degli oggetti dal cielo proprio dal nulla voglio anche farvi vedere proprio il junk in game apparirà in questo modo non si è capito bene se sarà di rarità epica o di rarità leggendaria una delle due ragazzi comunque di certo non lo troveremo in altre versioni e una cosa molto molto curiosa di questo junk ragazzi se riesco a farvela vedere non ce l'ho qua ve la vado a prendere non c'è nessun problema intanto sono gli oggetti che farà cadere vi faccio però sentire intanto i file audio vediamo se riusciamo a farveli sentire da qua ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce li abbiamo qua fai l'audio del junk rift questa l'ancora che cade questo è il cesso che cade questa è la macchina della pulizia che cade questo è il tricciarato può che cade questo non ho idea sono interessanti questi suoni raga ancora altri ceratopo insomma ragazzi un consumabile che per quanto sia strano intanto vi ho fatto vedere tutti gli oggetti che verranno letteralmente catapultati dal cielo per quanto sia strano sicuramente stravolgerà nuovamente le meccaniche di gioco ovviamente staremo a vedere come si utilizzerà se si lancerà se semplicemente si dovrà non lo so una volta preso appariranno le cose in cielo non sappiamo nulla perché non ci sono veri e propri gameplay ma non appena se ne vedrà qualcuno sarete sicuramente i primi a saperlo e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ecco l'immagine misteriosa è presente nei file di gioco questa immagine e come vedete ragazzi è una specie di rete legata con un coso spinoso che tiene dentro la testa del durburger la testa del tomato la testa del cuddle team leader e secondo me tra il durburger e il tomato dietro lì c'è un'altra testa perché non si capisce bene ma secondo me ce n'è un'altra la cosa molto strana è che diavolo è perché c'è alcuni parlano di una nuova skin ed effettivamente sappiamo che è in progetto un nuovo bundle per ps4 non abbiamo ancora informazioni né sul nome né sulla data di uscita ma sappiamo che ci sono file presenti nei codici sorgenti che sono relativi ovviamente ma l'altra cosa interessante di questo che potrebbe essere un backpack come vi anticipavo all'inizio del video non è altro che la nuova copertura dedicata al tomato ed è molto a parte che è meravigliosa perché è una copertura come vedete a tema pizza non guardate la parte azzurra perché in realtà questa è un'immagine vecchia ma in alta definizione ho preferito inserirvi questa questa parte azzurra sarà sul grigio molto chiaro quasi color panna ragazzi è probabilmente per evitare che ci sia confusione quando utilizziamo l'arma in game sappiamo che farà parte del set del tomato quindi è anche lecito pensare che potrebbe in un prossimo futuro apparire anche una copertura dedicata al durburger insomma ragazzi più andiamo avanti con i giorni e più le novità arrivano stiamo per arrivare già alla quarta settimana alla terza alla quarta settimana ragazzi di gioco vi ricordo che Questa season dura molto molto poco infatti il 6 ottobre saremmo già nella season 11 e ancora una volta vi ricordo portato un po di pazienza per il bruto ragazzi oramai tutti l'hanno capito pure epi games è che non ha senso tirarlo via nel bel mezzo della season io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao e non mi parte neanche l'auto oggi non parte niente così ciao